Continua a far discutere la scelta dell'ast di Ascoli di far partecipare lo scorso mese di maggio alcuni suoi dipendenti ad un corso di formazione a Pisa che tra le prove di team building prevedeva anche una esperienza in barca. E' duro è stato l'attacco nei giorni scorsi dei sindacati nei confronti dei vertici dell'azienda sanitaria per la scelta di tale corso che per giunta era destinato solo a pochi. Ma il direttore generale della AST Nicoletta Natalini non ci sta e ha inteso fare chiarezza. Si tratta di un corso di formazione e non come qualcuno ha voluto far passare una gita di piacere in barca. Partendo quindi dal fatto che si tratta di un evento lecito e legittimo mi sono dovuta trovare però a puntualizzare che ogni direttore, ogni dirigente si deve assumere la responsabilità di quello che firma e di quello che autorizza. Dal mio canto io ho sicuramente deliberato il piano della formazione aziendale all'interno del quale questo corso era contenuto. Era contenuto come corso indoor di team building e quindi nessun problema a che potesse essere svolto. La modalità però con cui è stata svolta in questo momento storico è sicuramente una situazione che non è comprensibile. Non è comprensibile alla maggior parte delle persone, all'opinione pubblica perché non viene compresa nel suo contenuto. Per questo che io dovrò chiedere ai miei direttori, ai miei dirigenti che nell'ambito della formazione che è fondamentale e sicuramente da fare tengano un atteggiamento di più consono e forse più rigoroso nella scelta degli eventi da autorizzare. Il direttore generale inoltre in un'ottica di riorganizzazione interna ha annunciato che a breve ci sarà la nomina di altri coordinatori che andranno ad aggiungersi a quelli già nominati tra dicembre e gennaio scorsi. Le novità sono che non stiamo mai fermi e quindi anche se sembriamo lenti nel trovare le soluzioni comunque noi ci ragioniamo e cerchiamo di ottenerle. In particolare se parliamo di ruolo di coordinamento come ho appena detto a tutti quelli che abbiamo nominato tra dicembre e gennaio recentemente se ne aggiungeranno altri proprio per completare la squadra.